Malattia più diffusa di quanto si possa credere la ludopatia, in questo senso molto importante il TOLC, fate il nostro gioco organizzato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Taranto con le associazioni Rotaract Club Taranto e Rotary Club. Noi abbiamo come Dipartimento Dipendenze un'equip che segue specificamente i disturbi delle dipendenze comportamentali, in particolare il gioco d'azzardo, un'equip alla quale si può accedere in maniera diretta, noi facciamo parte del territorio della ASL e quindi questa occasione in collaborazione con il Rotaract e il Rotary è un'occasione di vedere, di fare prevenzione e sensibilizzazione sul problema attraverso una modalità un po' nuova. Fate il nostro gioco è il TOLC progetto con cui il gruppo Taxi 1729 si propone di svelare le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che si celano dietro il fenomeno del gioco d'azzardo in Italia, con la convinzione che il modo migliore per farlo sia usare la matematica come una specie di antidoto logico, in pratica chiarire a tutti che le probabilità di vincere sono davvero ridicole. In questi momenti di educazione ai ragazzi, i ragazzi vengono assaliti sotto una serie di impulsi che possono essere il gioco d'azzardo, abitudini voluttuarie non pertinenti alla loro età, per cui bisogna intervenire con questi strumenti, cioè l'educazione. Molti gli studenti presenti, ma il gioco d'azzardo riguarda, si sa, tutti e il pensiero vale persone anziane e non che perdono i propri soldi dietro sogni irrealizzabili, passando ore dietro alle slot e agli altri giochi che purtroppo restano legalizzati. Nell'arco della mattinata poi ci sarà la donazione di un service nei confronti di alcuni ragazzi per favorire l'attività sportiva. Un talk interattivo che spiegherà i profili matematici, tecnici del non funzionamento del gioco d'azzardo. La finalità è una finalità assolutamente inclusiva che quindi sposa i nostri obiettivi e le tematiche che il Rotary si propongono di trattare e di incentivare, quindi doneremo degli abbonamenti per attività inclusive, in particolare di voga e anche qui colgo l'occasione per ringraziare l'associazione che ha accolto e ha voluto sposare questa iniziativa per dei pazienti appunto dello stesso dipartimento di cui abbiamo accennato.